pubblicate le convocazioni alle prove fisiche e accertamenti psicofisici attitudinali del concorso 1673 allievi finanzieri 2023 aperto ai civili questo ragazzi è il momento giusto per prepararvi poiché avete lo giusto tempo per farlo quindi i candidati risultati idoni alle prove scritte di preselezione del concorso sono stati appunto convocati nelle varie date la maggior parte da gennaio in poi 2024 e dovranno sostenere delle varie prove quindi il primo giorno di convocazione a che fare appunto con le prove di efficienza fisica il secondo e terzo giorno accertamento dell'idoneità psicofisica per i candidati risultati idoni appunto alle prove fisiche e quarto e quinto giorno accertamento all'idoneità attitudinale per gli aspiranti idoni agli accertamenti dell'idoneità fisica appunto si evidenzia che il concorso appunto le operazioni in realtà concorsuali verranno sospeste al 23 dicembre 2023 fino al 7 gennaio quindi come vi dicevo da gennaio in poi adesso se stai svolgendo un concorso delle forze dell'ordine, forze armate in generale un concorso in cui sono previste delle selezioni e delle prove spinose a superare devi sapere che dovrai appunto superare diverse prove tra colloqui e testi di logica mettiamola così quindi se vuoi assicurarti appunto il superamento delle varie prove e vincere il concorso qui semplicemente ti posso dire che devi prepararti per i test psicotuinali, colloqui, onnipari periti e commissione eventualmente finale fortunatamente per te se sei interessato oggi hai la possibilità di ricevere una video lezione gratuita in cui ti spiego le fasi di preparazione diciamo ai test comunque al colloquio e alle prove psicotuinali ti basterà cliccare sul link qui sotto e accedere alla video lezione o comunque cliccare sul link che trovi in biografia io mi chiamo alvaro torino e sono psicologo e docente universitario e con il mio metodo mental program ho aiutato centinaia di ragazzi a vincere un concorso e a realizzarsi professionalmente quindi se vuoi prepararti alle prove psicotuinali io ti aspetto dall'altra parte ciao